Dopo Letizia Zaffarana e Dermelinda Capizzi arrivano Luigi Denari e Ignazio Sarri. Ad Acate il neosindaco Franco Raffa ha così completato la sua squadra assessoriale. Proprio il sindaco parla in queste ore di professionalità che intendono spendere le proprie energie per la città. In dettaglio Zaffarana dovrebbe essere il nuovo vice sindaco. Capizzi potrebbe avere la delega alla pubblica istituzione, Denaro quella di cultura e spettacolo e infine Sarri delega alla polizia municipale ai lavori pubblici. Ma poi c'è la novità a partire da questa sindacatura della presenza massiccia di esperti e consulenti nominate a titolo gratuito, ci tiene a precisarlo lo stesso primo cittadino, mentre per quanto riguarda insediamento ufficiale e giuramento il presidente del Consiglio Comunale uscente Giuseppe Di Natale dovrà entro il 30 giugno convocare l'ultima seduta durante la quale Raffo si insederà di fatto e da lì potrà cominciare a lavorare. Al posto di Di Natale allo stesso tempo il neosindaco ha proposto una donna mentre sembra intenzionata a dare spazio all'opposizione tant'è che proporrà un esponente al Movimento 5 Stelle alla vice presidenza del civico consesso. Raffo ne discuterà comunque a breve con gli stessi grillini e sarà ben lieto se accetteranno di assumersi questa nuova responsabilità.